I sindacati questa mattina chiedono certezze per il futuro e la tenuta occupazionale nel territorio del Valdarno. Quali sono le intenzioni della proprietà? Ora facciamo la riunione e poi rilasceremo le nostre dichiarazioni. Resta ancora alta l'attenzione sulla vicenda della Valentino Sciusa di Levane. Lo stabilimento è andato a fuoco nella notte tra il primo e il 2 aprile scorso. Giorno dopo giorno cresce anche la preoccupazione da parte di lavoratori e sindacati. Abbiamo paura che l'azienda usi la paura e il timore di ripristinare un stabilimento in Valdarno invece per ridimensionare. I 180 lavoratori dal mese di maggio hanno ripreso a lavorare ma facendo spola tra l'altro stabilimento di Valentino di Montelupo e quello messo a disposizione da Prada sempre in Valdarno. Sono costretto a fare turni diversificati, 60 persone che tutti i giorni vanno a Capralia, quindi la situazione è sicuramente complicata. È giusto l'obiettivo che vogliono raggiungere presto di rimettere i 180 persone tutte quante insieme e questo è anche il nostro come obiettivo. Il punto poi è il dopo, se si impegnano a reinvestire seriamente nel nostro territorio. Il futuro del calzaturificio è stato così al centro di un incontro in prefettura, presenti azienda e sindacati che sono tornati a chiedere certezze sulla permanenza della Valentino Schuss in Valdarno. L'alibi di dire nel nostro territorio non ci sono spazi diventa poi difficile, messo davanti all'evidenza di tutti i lotti che ci potrebbero essere disponibili. Quindi io credo oggi da questo punto di vista qualche piccola verità in più spero che esca fuori. L'azienda si è impegnata a presentare entro qualche mese il piano industriale con una serie di prerequisiti per un investimento prioritariamente in Valdarno, come richiesto dagli stessi sindacati. Grazie.